0 a 0 il punteggio in questo match fra Virgin Soccer quelli del Vannella, vediamo ciotola, ciotola! Piccirillo non ci arriva, strano perché normalmente il suo fiuto da bomber avrebbe concesso di realizzare il gol andiamo a Bilotto è quasi biblica questa locuzione andiamo a Vannella, serve De Martino però De Martino l'ha scucchiata a servire a Fabio Carr l'appoggio per San Paolo questo è Amideo e Bianco, Casacca bianco, Amideo attenzione ciotola palla nei piedi, ancora ciotola palla per Pastore, girata anzi no, no, Muto poi Bianco Ercole fa buona guardia e ancora Ercole la gira per Muto ancora Muto prova a servire Ercole con un lungo lancio e diventa buono per ciotola palla nei fuori palla per Amideo poi De Martino ancora Amideo begli numeri per Amideo la gira per Bianco potrebbe caricare anche il destro lo fa a Santo Paolo sicuro riparte da Giancarlo Ercole attenzione De Martino ruba palla De Martino De Martino se ne va De Martino palla messa in mezzo anzi è un tiro che termina sul fondo come ci ricorda il nostro direttore di gara ma non c'è anche la monetina da sola come le monetine come una catapulta guarda Muto c'è il movimento di Ercole rischia un po' su Amideo perde palla Amideo Amideo miracoloso intervento di Santo Paolo che evita un gol già fatto pastore spogliati magari è sta maglietta si chiude il buono Mirko andai retto infatti sul puntaggio di 0-0 entrambiando il collegamento eccoci qui con De Martino il migliore in campo di questa prestigiosa vittoria di Poli delle Pannella per 3-1 conti Gigi in soccer vincitori delle edizione invernale allora anche è una partita abbastanza controllata dalla parte vostra dall'inizio alla fine è stata una partita è stata una partita abbastanza dura giocata molto fisicamente però abbiamo avuto la meglio hanno avuto qualche occasione sul finale qualche mischia così però la partita è stata quasi sempre in controllo dico ottima prestazione è il solito senti senti quindi questi tre punti contro un avversario dicevamo davvero di altissimo livello quindi abbiamo battuto i campioni dell'anno scorso diciamo prendendo un gol che si poteva anche evitare quindi adesso dopo questa vittoria importante che dà un'iniezione di fiducia un obiettivo per il proseguo del torneo l'obiettivo è sempre lo stesso giocare ogni partita e provare a vincere da poi vediamo la fincola benissimo buon cuore Vannella ciao grazie Grazie per la visione